Mamma ti guarda Sardegna, la piccola Vittoria di 10 anni ha una stretta relazione con sua madre Tina in una casa in degrade, fuori dal paese di Angelica che è spesso ubriaca e cerca affetto tra le braccia di uomini che sono solo interessati al sesso Angelica è la madre naturale di Vittoria e nel momento in cui viene sfrattata Tina spera di liberarsi in modo definitivo della sua presenza perché il rischio che riveli la propria maternità alla bambina è sempre l'aguato ancora di più quando Vittoria e Angelica iniziano ad avvicinarsi Il figlio è mia, un film di Laura Dispuri in programmazione al cinematografo Sant'Angelo dal 22 al 27 febbraio alle 18.30 alle 21.15 nel fine settimana anche alle ore 16.30 il 28 febbraio alle ore 20.15 direttamente dalla Royal Opera House il racconto d'inverno per tutti gli altri film consultare le sfide di programmazione nel sito internet www.anticinegatti.it Ciao Ciao Grazie a tutti.